Ciao amici, quando scegliamo il nostro nuovo smartphone, in base a cosa prendiamo una decisione? Squaletto vuole solo lo Shark Phone X e io invece lo SharkSung S10. Eh già, se possiamo vogliamo tutti lo smartphone più nuovo che ci sia perché è il migliore in tutto. Il design, la batteria, la fotocamera, le app e ovviamente lo schermo. Oppure no? Oggi vediamo il test sul display che non fa nessuno e che ci dice qual è lo schermo migliore non solo per guardare i video ma anche per i nostri occhi e la salute. E ci saranno delle sorprese pronti per il test? Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace e tanti nuovi video. Noi siamo curiosi, tanto vinco io, e come fai questo test che dici? Gli schermi degli smartphone oggi sono quasi perfetti. Grandi, risoluzione altissima, nitidi, luminosi, velocissimi. Diciamo che ormai le differenze tra un iPhone X e un Samsung S10 sono percepibili solo agli intenditori. Ma c'è un test di cui nessuno parla che invece è importantissimo per la nostra salute. È il test della luce blu. Luce blu Sì, tutti gli schermi emettono uno spettro di luce, cioè onde luminose con diverse lunghezze d'onda e frequenze. Tutte queste onde formano la luce e i colori che noi vediamo con gli occhi. Le onde vengono emesse dallo schermo sempre tutte insieme, anche se noi con gli occhi vediamo colori diversi. Senza fare una lezione di fisica, la luce blu influisce direttamente sulla nostra salute, in modo positivo ma anche negativo. Gli effetti positivi ci sono e sono Regola il ciclo circadiano del sonno Aumenta l'attenzione Stimola memoria e funzioni cognitive Migliora l'umore Basta pensare al cielo azzurro di una bella giornata di sole Il problema nasce quando ci esponiamo alla luce blu in orari in cui il corpo ha bisogno del contrario, per esempio alla sera. Gli effetti negativi sono Disturbi del ciclo circadiano e del sonno Vista offuscata Messa a fuoco difficile Occhi secchi e irritati Mal di testa Dolori a collo e schiena E sembra aumento del rischio di cancro, diabete, obesità e cardiopatie Aumento del rischio di depressione e dei danni permanenti agli occhi Questi sono tutti i rischi dimostrati dalla scienza, non me li sto inventando io E in descrizione c'è il link a un articolo scientifico di Harvard Oltre il 70% degli adulti che lavorano di fronte a uno schermo lamenta i sintomi di questo affaticamento degli occhi dovuto alla tecnologia Le ricerche dicono che questo tipo di luce alla sera sposta il ciclo del sonno di un'ora e mezza o più Vuol dire che se usiamo lo smartphone fino alle 11 Prima di mezzanotte e mezza non inizia il ciclo del sonno, quello rigenerante Quindi non ci riposiamo anche se dormiamo E se pensiamo che oltre il 90% dei bambini e teenager ha accesso a uno smartphone Il tema della luce blu non va sottovalutato No, sicuramente i nuovi schermi saranno migliori di quelli vecchi, no? Purtroppo no La tecnologia OLED dei moderni display offre colori più brillanti Ed emette più luce nello spettro blu-verde Quello con effetti negativi sul sonno Si parla di quasi il doppio rispetto ai dispositivi di qualche anno fa E molto di più rispetto ai primi iPad, per esempio A questo punto meglio Apple o Samsung? Adesso è il momento di iscriversi al canale Iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche E abbonatevi per accedere a contenuti extra E supportare il mio lavoro di divulgazione sulla salute naturale Negli smartphone Samsung si può attivare la funzione filtro luce blu Nelle impostazioni dello schermo Si può regolare l'intensità e attivare degli orari automatici Gli esperti consigliano di attivarla dalle 9 di sera alle 7 del mattino Su Apple c'è la modalità Night Shift Che si attiva dai controlli della luminosità E anche la modalità Black Per avere l'interfaccia con sfondo nero e testo bianco No, squaletto, hai vinto tu A dire la verità, è un pareggio In nessun caso, infatti, la riduzione della luce blu è sufficiente Gli schermi, infatti, sono diventati così grandi Che la quantità di luce emessa Rende queste impostazioni protettive poco efficaci Comunque, sicuramente, è meglio attivarle che non attivarle Cos'altro fare, allora? 1. Evitare di guardare a lungo lo schermo dello smartphone o del tablet Almeno due ore prima di andare a dormire 2. Per chi deve lavorarci con gli schermi o fa turni di notte Si possono usare gli occhiali specifici anti luce blu Messo un link a un buon prodotto in descrizione 3. Importantissimo, durante il giorno esponiamoci alla luce naturale del sole Perché secondo questo studio di Harvard Aiuta a regolare il nostro ciclo circadiano Bene, ora condividete questo video E nei commenti scrivetemi le vostre impressioni Ed esperienze su questo tema così importante e poco discusso Usiamo la tecnologia, ma per la nostra salute, non contro di noi Noi ci vediamo al prossimo video Sempre più trendy e sani Con Simona Vignali, naturalmente Ciao! Ciao!